Ciao a tutti, oggi andiamo a fare la ganache al cioccolato fondente e gli ingredienti che ci serviranno sono 125 g di panna 50 g di miele o glucosio 125 g di cioccolato fondente e 30 g di burro In un pentolino portiamo a bollore la panna e il miele Ora versiamo il composto a filo sul cioccolato fondente e spezzettato Dopo aver aggiunto tutta la panna e il cioccolato è besciolto andiamo ad aggiungere il burro e continuiamo a mescolare Alla prossima